Il 12 maggio scorso circa 80.000 enti pubblici hanno ricevuto dal gruppo Monitora.p.a una diffida per l'utilizzo di Google Analytics per le statistiche di accesso ai propri siti web. Due settimane dopo il garante si è espresso con uno stop. A luglio una nuova diffida da Monitora.p.a per i caratteri Google Fonts. Questi strumenti trasferiscono illegittimamente in USA dati personali e sono in contrasto con il GDPR. Per il semplice cittadino che ha a cuore la tutela della propria privacy. E per il webmaster notizie che non hanno avuto la risonanza che forse meritavano. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Il testo di questo video lo trovi nel blog Alternativa Linux. Ti invito a farci riferimento perché non è comodo riepilogare nella descrizione del video tutti i link di approfondimento legati agli aspetti che tratto. Tra il 12 e il 13 maggio enti pubblici per i quali gestisco il sito web mi hanno inoltrato un messaggio di posta elettronica dall'oggetto. Diffida per violazione del GDPR per utilizzo Google Analytics su sito istituzionale. Il messaggio non anonimo e proveniente da un indirizzo PEC era recapitato all'indirizzo PEC dell'ente. Mittente è un gruppo che si identificava come monitor APA con tanto di indirizzo di un sito web. Quanto a Google Analytics, se non lo sai, è uno strumento fornito ai gestori di siti internet anche in forma gratuita. Consente di analizzare dettagliate statistiche sulle visite e sugli utenti per ottimizzare i servizi resi e monitorare campagne di marketing. Ecco l'inizio dell'email di monitor APA. Spettabili ente, siamo un gruppo di hacker italiani, attiviste e attivisti, cittadine e cittadini attenti alla privacy e alla tutela dei diritti cibernetici nel nostro paese. Abbiamo rilevato che il vostro ente utilizza Google Analytics nel suo sito, nonostante sia oramai pacifico che questo strumento non sia conforme ai principi del GDPR in ordine al trasferimento transfrontaliero di dati personali. L'utilizzo di GA è infatti stato ritenuto illecito dall'EDPS, cioè il Garante Europeo per la Privacy, European Data Protection Supervisor. Il messaggio riportava un link al sito web NOIB, acronimo di None of Your Business, cioè Non sono fatti tuoi. Qui un articolo documenta l'ammunizione del Garante Europeo al Parlamento Europeo del gennaio 2022. Le ragioni erano banner poco chiari sui cookie del sito, ma soprattutto il trasferimento verso gli USA di dati personali dei visitatori, senza garanzia sui livelli di protezione. Vediamo oltre che cosa si intenda. Il gruppo Monitor APA, insomma, invitava circa 8.000 enti pubblici a dismettere quanto prima il servizio di statistiche di Google, perché tale violazione, proseguiva il messaggio, espone l'ente stesso alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 83 del GDPR. E consigliava, in alternativa a Google Analytics, Web Analytics Italia, strumento messo gratuitamente a disposizione delle pubbliche amministrazioni dall'Agenzia per l'Italia digitale e basato su Matomo Analytics. La notizia ha generato in poche ore un confronto in rete da cui sono emerse svariate posizioni e non pochi ulteriori grattacapi per i DPO, o meglio RPD, responsabili della protezione dati, di enti pubblici e non solo. Su due piedi il webmaster, specie quello di un sito non istituzionale, non si è preoccupato più di tanto, anche in caso di adozione di Google Analytics, perché forse già consentiva all'utente di escludere i cookie di monitoraggio di Google prima della visita, e soprattutto faceva diligentemente ricorso alla cosiddetta anonimizzazione fornita dal servizio. Ma anche se sei solo un utente di internet, potrà interessarti sapere che Google propone a webmaster un'opzione per cui parte dell'indirizzo IP, da cui si possa individuare l'identità di un utente e una marea di informazioni sulla sua posizione, sul suo dispositivo e tante altre, viene mascherato in queste statistiche. Tecnicamente i dati vengono anonimizzati impostando nel codice che consente il monitoraggio il dato Anonymize IP True. Ma anche se il webmaster adotta questa cautela, Google riceve ancora anche tutti gli altri dati consueti e offusca parte dell'IP successivamente. Nella pagina sull'anonimizzazione in Google Analytics si legge Quando un cliente di Universal Analytics richiede l'anonimizzazione degli indirizzi IP, Analytics li anonimizza non appena è tecnicamente possibile. Insomma, Google riceve il dato personale e lo offusca a chi usa le sue statistiche, ma è in grado di identificare l'utente che visita un sito anche se riceve l'indirizzo IP incompleto, specie se in quel momento un utente è connesso al proprio account Gmail. Con la nuova versione dello strumento, Google dichiara di non memorizzare gli indirizzi IP, ma suona come una presa in giro sapere che esso viene usato per ottenere differenti informazioni personali degli utenti, anche se poi non viene memorizzato. Google, analogamente a Facebook, ha tentato di raggirare il problema delle più stringenti normative europee sulla privacy, indicando come responsabile dei dati trattati la propria sede in Irlanda, entro i nostri confini continentali. Ma Google Ireland chiede di accettare agli utenti del servizio gratuito di Analytics, clausole che le consentono di trasferire dati ad altre società del gruppo, tra cui ovviamente la sede americana. Ma conviene comprendere il contesto giuridico in cui la mail di monitor APA del 12 giugno 2022 si inserisce. Già il Regolamento Europeo 679 del 2016, noto come GDPR, aveva sancito limiti alle possibilità di trasferimento di dati personali in stati extra UE, consentendoli solo in presenza di specifici presupposti. Una legge americana, il cosiddetto Patriot Act, approvata all'indomani dell'11 settembre 2001, malgrado successive modifiche ma anche proroghe, consente ampie deroghe alle libertà individuali, tra cui la privacy, al fine di ostacolare il terrorismo. In alcuni casi, le NSL, era stata ammessa la possibilità per l'FBI di ottenere dai fornitori internet dati sulle attività web dei cittadini senza neppure mandato di un giudice. Per la verità, una legge limitata ai residenti nello stato della California, il CCPA, California Consumer Privacy Act, aveva già introdotto dal 2018 valide misure, talvolta più stringente di quelli del GDPR per il controllo dei dati personali. Ma la serie di accordi tra UE e USA del 2016, nota come Privacy Shield, evoluzione di precedenti accordi non ritenuti adeguati dalle istituzioni europee, consentiva a società americane di trasferire e conservare i dati personali di cittadini europei negli Stati Uniti praticamente senza restrizioni, senza necessità di ricorso alle ulteriori misure previste dal GDPR per i trasferimenti di dati fuori dal continente. Questo scudo per la privacy era stato infatti considerato dalla Commissione europea adeguato a garantire un idoneo livello di protezione e di tutela dei dati personali. Che significa? Faccio un esempio pratico. Immagina di prenotare un esame medico particolarmente delicato o di richiedere qualche forma di sostegno economico ad un ente pubblico. Ti fa piacere che queste informazioni, per via delle statistiche di Google nel sito web di questo o quell'ente, finiscano in USA dove agenzie governative possono accedervi senza limiti e senza alcuna tua possibilità di impedirlo o richiederne la cancellazione? Immagino di no. Nel 2016 il Garante Europeo per la Privacy ammoniva infatti su problemi irrisolti dal Privacy Shield, tra questi l'impossibilità di richiedere la cancellazione dei dati, la quantità mostruosa di dati personali raccolti e l'assenza di garanti. A peggiorare il quadro, un ordine esecutivo firmato a inizio 2017 dall'allora presidente Trump, escludeva i non residenti in USA dalle tutele di riservatezza di dati personali. A luglio 2020, quindi una sentenza storica nota come Schrems II, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha invalidato la decisione della Commissione europea relativa al Privacy Shield, ritenendolo illegittimo. Questa decisione, confermando la centralità del GDPR, rimarca che i dati trasferiti e conservati negli Stati Uniti non godono di un livello adeguato di protezione. Si tratta di una decisione simile ad altre adottate da autorità di controllo, tra cui quella austriaca e quella francese, dall'arta corte d'Irlanda e dalla stessa Commissione europea. E così l'attivista austriaco Max Schrems, presidente onorario del citato citoweb noeb.eu, era riuscito, dopo un primo tentativo fallito contro il trasferimento di dati operato da Facebook verso gli USA a smuovere le istituzioni europee. In effetti alla data del messaggio di monitora PA, vincoli stringenti per RPD e webmaster di siti web istituzionali nell'EPA non sussistevano, anche se nel piano triennale per l'informatica nell'EPA 2021-2023 si incoraggiano le amministrazioni ad adottare Web Analytics Italia per il monitoraggio dei portali web. E a metà del cammino quasi 8000 enti usano ancora le statistiche di Google che trasferiscono i nostri dati personali senza alcuna possibilità di controllo. Quanto agli enti di cui gestisco il sito web devo però dire che i rispettivi RPD mi avevano già incoraggiato a studiare soluzioni alternative a Google Analytics, anche se il nostro garante per la privacy non si era ancora pronunciato. Ma una pronuncia sul merito specifico delle statistiche di Google da parte del nostro garante per la privacy arriva a stretto giro, il 9 giugno 2022, e fa seguito al ricorso presentato da un utente del sito web di una società toscana legata all'intrattenimento. Questi lamentava il trasferimento dei propri dati personali negli Stati Uniti anche per il tramite della sede irlandese di Google attraverso il sistema di monitoraggio Google Analytics. Nel comunicato stampa si legge che il ricorso a Google Analytics, seppure con l'anonimizzazione e l'offuscamento parziale degli indirizzi IP, non è una misura adeguata a garantire il rispetto del GDPR. Cito testualmente, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso. Infatti la mascheratura parziale degli indirizzi IP, assieme ai tantissimi dati già in possesso di Google, sugli attenti Android o comunque connessi al proprio account Google durante la navigazione, consente ovviamente al colosso tecnologico di identificarli nuovamente ed arricchirne i singoli profili. Con tale provvedimento il garante si limita ad ammonire la società citata, ingiungendoli di adottare entro 90 giorni misure supplementari volte ad avvitare il trasferimento verso gli USA di dati degli utenti da cui si possa ricostruire l'identità. Come se non bastasse, ma prevedibilmente, l'8 agosto 2022 migliaia di enti pubblici hanno ricevuto una nuova mail di diffida dal gruppo Monitora.pia. Questa volta si parlava di Google Fonts, i caratteri tipografici messi gratuitamente a disposizione dei webmaster per i propri siti web. Ogni pagina che li incorpora tramite i server di Google restituisce le stesse informazioni dello strumento Analytics. Il gruppo fornisce anche indicazioni, per la verità imprecise, sul fatto che un webmaster impieghi 5 o 10 minuti per ovviare, anche scaricando i caratteri offerti da Google. Scaricarli, caricarli sul sito web e puntare localmente alle risorse piuttosto che ai server Google non è un istante. Questo capitolo del video è destinato al webmaster. Anzitutto i caratteri sono scaricati in formati TTF e OTF, installabili su PC ma non adatti alla diffusione via web. È quindi necessario convertirli in UOF e OUOF2. Talvolta però la conversione non può essere effettuata senza pagare una licenza all'autore del carattere. Google paga licenze per consentire agli utenti di Google Fonts di utilizzarli gratuitamente nei formati richiesti per il web. Se sei un webmaster, verifica singolarmente le famiglie di caratteri che vuoi sostituire perché nello zip troverai le condizioni di licenza. Se non vuoi farlo e non vuoi modificare i tuoi CSS per richiamare localmente i caratteri, c'è il servizio di fontlibrary.org. Come Google Fonts si basa su chiamate HTTPS ed è ospitato su server USA. Non trovo nel sito informazioni sui dati che sono raccolti e ci andrei comunque cauto. Insomma, se sei un webmaster, anche se il tuo sito non appartiene ad un ente pubblico o esercente un pubblico servizio, consiglierei di rimuovere presto Google Analytics se non lo hai ancora fatto. Non mi accontenterei di disattivare la cosiddetta raccolta dei dati granulari su località e dispositivo e attivare Google Analytics 4, soprattutto perché le nostre autorità europee e nazionali non si sono ancora espresse sul nuovo strumento, ma si sono già espresse sul fatto che anche un indirizzo IP parziale consente a Google di reidentificare un utente. E questo grazie alla mostruosa quantità di informazioni di cui dispone. Quantità che aumenta a dismisura se l'utente ha un dispositivo Android ed è quindi identificato dall'account Gmail qualunque cosa faccia in rete. Puoi optare per statistiche registrate a livello di server web senza cookies e rispettose del GDPR, come quelle che ho scelto per i miei siti web. Oppure puoi installare sul server il servizio di Matomo o usare la loro piattaforma in Germania, rispettosa del GDPR. Cosa succederà? È evidente che servono nuove misure di garanzia da parte di Google e che le nostre autorità di controllo verifichino la versione 4 di Analytics e secondo me non risolvono i problemi di privacy che sembrano avere a cuore. Più in generale e realisticamente servono nuovi accordi UE-USA sul trasferimento di dati oltreoceano per non paralizzare le attività di tantissime organizzazioni internazionali. Io mi aspetterei una prossima mail di monitor APA avente ad oggetto di fide dal ricorrere all'incorporamento nelle pagine web di video YouTube. Anche se non vengono riprodotti, sono sufficienti ad inserire nel dispositivo di un utente, ad oggi, un totale di 14 cookies. Essi scadono fino a due anni dopo e da essi Google ricava una quantità di informazioni esagerata. Io approvo la sensibilizzazione operata dalla campagna di monitor APA e non faccio parte di quelli che dicono ma tanto sanno tutto lo stesso. Quello che questi colossi sanno lo devono ad ogni pulsante a consento che schiacciamo senza leggere tutto quello che c'è sopra, convinti della gratuità dei servizi che stiamo per usare. Come webmaster, nel blog alternativa linux.it, ho attivato statistiche che mi danno informazioni minori rispetto a quelle di Google, ma mi bastano e sono rispettose della privacy. Ho eliminato le pubblicità dopo un infelicissimo esperimento durato poco. Ho eliminato ogni riferimento alle statistiche e ai caratteri di Google e sostituito i video YouTube incorporati con immagini di anteprima. Al momento tutti i siti web dei miei clienti privati e di miei siti personali, tra cui il blog alternativa Linux, sono Google free. Il blog è inoltre privo di pubblicità, di tracciamenti di qualunque genere e privo di banner per i cookie, perché di cookie non ce ne sono. Elimino l'indirizzo IP che mi arriva con ogni commento lasciato a fondo pagina nel momento che ne approvo uno. Non ho nulla che possa essere rivenduto se non i miei testi. Mi permetto di segnalarli per l'acquisto a sostegno di un'attività che svolgo da solo e senza altre entrate. Nel mio piccolo so di poter fare la differenza e ci tengo a farla. Grazie per la tua attenzione e alla prossima. Grazie per la tua attenzione e alla prossima.